Buongiorno da Piercarlo Lava e Alessandria Post. La capolista Alessandria ha giocato in casa la quinta partita di ritorno del campionato di Lega Pro Girone A contro il Piacenza. Una squadra al decimo posto in classifica con 31 punti. I grigi sbrigano la pratica e tornano a correre battendo 1-0 il Piacenza con un gol di Boccalò. La cronaca dell'incontro a cuore di Federica Ghisolfi. Vai Federica. Per Carlo, i tre punti d'oro sono stati dall'unice di Braglia contro il Piacenza. Squadra di Piacenza che c'è un seguito di vario in classifica. Squadra combattiva all'ispetto di un Alessandria che ha faticato un po' più di previsto per avere la ragione dell'undici piacentino. L'unice di Braglia va in campo con Pannucchi, Piccolo, Gozzi, Barlosco, Sesto, Branca, Cazzola, Iucolana, Gonzales e Boccalò. L'incontro a cuore di Boccalò è sceso in campo contro il sole, Vicesco a base, Silva per greffi, Matteassi, Saberle, Aurb, Deano, Massullo, Romero e Franchi. L'unice di Braglia parte l'attacco. L'unice di Boccalò si rende precoloso, invece l'unice di Boccalò si rende precoloso, colpendo una cosa molto attraverso al 12esimo. Al 20esimo, purtroppo, Braglia è costato da effettuare il primo cambio dell'incontro e si vede uscire per il contugno Gonzales e c'è posto di Schenaller. Per raggiungere un stesso trauma di forse al ginocchio, si sentengono in esami prossimi per vedere l'esito finale dell'infoccio 1. Prima frazione dove l'Alessandro si vede un numero di volte dalle parti di Pelizzoli, il quale contiene un pentus con un reacolo su Boccalò e viene indicato da Sesto. Durante la seconda frazione, i giocatori grigi scrimono un tronco lavoroso a rigore non concesso dall'arbitro per farle mani in area sull'opera di Faber. Finalmente l'Alessandro si capizza e va in battaglia al 75esimo con la poterficesima ferla stagionale di Riccardo Boccalò. L'azione è iniziata da Barlocco, parla che finisce a Branca, che troppo a Sera, che finisce sulle servizioni di Boccalò. L'Alessandro, che grazie, ha visto numerosi costi, ha fatto bene da Sesto, che finisce sulle problemi all'avversale. Inoltre, durante la gara, c'è da segnalare l'esordio al 70esimo dell'ultimo acquisto in maglia grigia di Baco, che prende posta di Riccardo Boccalò, che così è scelta bene sui numerosi delle certissime parti da parte del popolo grigio. Per segnalare durante l'incontro delle ottime impostazioni di Sesto, il giocatore ritrovato dopo l'incorpugno e del tratto finale ai posti di Boccalò. Con questi risultati i grigi salvano una quota 56, a più 8 sulla retto, a più 9 sulla cremonese e a più 10 sul Livorno. I grigi, nelle prossime due ore, dovranno affrontare due impostazioni contro il Como e la cremonese. Gare da affrontare colpino e giusto, sicuramente con il suo valore, con il valore che non stanno a mettere in campo, dovrà affrontare queste gare con il spirito giusto. Bene, direi che abbiamo fatto il punto della situazione. È evidente che le prossime due partite sono decisamente importanti, sia per la qualità degli avversari, ma anche per il fatto che ci troveremo, se non sbaglio, a questo punto alla settima partita della Girona di ritorno. Quindi mancano ancora, se non sbaglio, 9, 10, 11, 12 partite, ma evidentemente se riusciamo a superare Indenni vincendo le prossime due, direi che se le squadre dietro perdono qualche punto, direi che siamo a buon punto per il cammino verso la Serie B. Ovviamente la strada è ancora lunga e non bisogna naturalmente abbassare la guardia, ma siamo sulla strada giusta. La squadra è stata più forte sia dell'arbitro che del campo, perché la Liga non può mandare un'arbitro di Arezzo ad arbitrare una squadra che è una forza concorrente nella lotta al vertice. Sì, già questo è abbastanza strano, ma purtroppo nel calcio succede quello ed altro. Bene Federica, alla prossima e buon lavoro, ciao! Ok, grazie, ciao!